Con oltre 2 milioni di unità vendute nel mondo in poco più di 10 anni, Dacia Duster si conferma il SUV più accessibile, che risponde perfettamente alle esigenze dei clienti che sono alla ricerca di un'auto con un design attuale, audace, senza rinunciare al comfort. Duster è uno dei pilastri importanti della strategia Dacia e attraverso la serie limitata Xtreme si celebra la massima espressione del DNA del marchio. Essenziale, basato sul livello prestige, il top della gamma, Duster Xtreme offre un equipaggiamento completo, in linea con tutto ciò di cui oggi un cliente possa aver bisogno su un SUV, come ad esempio la multiview camera, necessaria in ogni tipo di avventura on e off-road. Ma anche cool, questa serie limitata si distingue per il suo look caratterizzato da dettagli in colore orange, che si ritrovano sia all'interno che all'esterno del veicolo. L'abbinamento poi dei dettagli arancioni con i cerchi in lega neri crea un perfetto connubio ed equilibrio tra sportività ed eleganza. Duster da sempre è stato protagonista di mille avventure e anche la serie limitata Duster Xtreme conferma le sue doti outdoor con l'offerta della trazione integrale 4x4, senza trascurare però l'offerta ecosostenibile, la proposta infatti di alimentazione Eco-G, il motore B-Fuel benzina GPL, che permette di muoversi in modo economico, risparmiando il 50% rispetto al benzina, ma anche ecologico, con emissioni di CO2 più basse del 10% rispetto al motore benzina. Con questa nuova serie limitata l'avventura diventa Duster Xtreme.